Una signora forte e risoluta che alla soglia dei 40 anni ha lasciato il marito che la maltrattava ed era il 1938. Ha sempre lavorato, prima all'oiutificio Maioni di Pallanza, poi nella cucina del Collegio Santa Maria, una donna moderna. E la verbanese Emma Morano, 117 anni, la decana del mondo, il simbolo di tutte le donne. Oggi nella sua casa di Pallanza, all'ombra di San Leonardo, per lei una duplice sorpresa con un giorno d'anticipo sull'otto marzo. Un bel mazzo di mimosa e una grande moneta dorata in ricordo della lira a 15 anni dalla sua uscita di circolazione. La lira, di conseguenza, comunque ha vissuto parte della sua storia con lei. Ricordiamoci che lei nel 1915, a soli 16 anni, ha cominciato a lavorare in un aiutificio dove percepiva, mi dicono, due lire al giorno. E poi tutto il passaggio dall'Ottocento, in tutto il Novecento, quando ha divissuto un po' le vicissitudini della lira. D'altro, questo riconoscimento è stato dato anche ad altri importanti personaggi italiani. Assolutamente sì. Nel 2002, proprio quando ci fu il change over fra la lira e l'euro, con Alberto Sordi facciamo una bellissima e memorabile giornata proprio a ricordo della lira. Andammo alla Fontana di Trevi, dove Alberto Sordi gettò le ultime monete nella Fontana. E in quell'occasione proprio questo esemplare di lira, che è qui a casa di Emma Murano, era lo stesso esemplare che Sordi salutò con simpatia. E poi l'anno dopo ci fu il monumento alla lira, inaugurato da Sofia Loren. Proprio il passaggio lira-euro aveva suscitato le proteste di nonna Emma, che si era vista dimezzare l'importo della pensione. Il responsabile della sua banca aveva dovuto farle visita a domicilio. Da una quindicina d'anni l'ultracentenaria non esce di casa, per spiegarle che l'ammontare era sempre lo stesso, solo che il valore della nuova moneta era diverso. È questo uno degli episodi che amano raccontarci le nipoti, che amorevolmente accudiscono quotidianamente insieme alla badante Emma Murano. Un po' sofferente in questi giorni, la nonnina dei record, reduce da una bronchite. Non riesce più ad alzarsi dal letto, ma non le manca l'appetito. Un po' di carne, la banana, i biscotti e le mitiche uova. Una dieta che ha fatto parlare tutto il mondo e che insieme a uno straordinario DNA e all'aria di pallanza, l'ha resa la quinta persona più longeva di tutti i tempi.